Una transiberiana d'Italia allungata che partirà dalla costa per portare i tanti turisti del mare alla scoperta degli splendidi paesaggi del massiccio della Maiella. E quanto si propone l'iniziativa presentata oggi a Montesilvano, sede di partenza del treno storico che raggiungerà Roccaraso, un viaggio suggestivo che si arrampica tra monti, altopiani e vallate alla scoperta di antichi borghi custodi di storia e tradizioni. Sull'iniziativa sentiamo i sindaci di Montesilvano e Roccaraso, Ottavio De Martinis e Francesco Di Donato. Mai un treno storico aveva ragionato delle corse turistiche. Noi unitamente al Consorzio Turistico di Montesilvano e unitamente a Roccaraso in collaborazione con Fondazione Ferrovia dello Stato abbiamo ragionato appunto quanto queste corse potessero far conoscere il nostro territorio nella sua forza principale che è quella appunto di avere la possibilità di vivere il mare e la montagna in una sola giornata. E d'inverno si raddoppia? Assolutamente sì, l'idea è quella di partire con queste corse estive per poi proseguire questa bella iniziativa anche durante il periodo invernale. Un'iniziativa molto importante per Roccaraso e Montesilvano ma io direi per tutto l'Abruzzo perché è il primo segnale di sinergia di territori, di mare e montagna che si uniscono e che riescono in modo molto concreto a valorizzare le proprie eccellenze. Quindi io sono molto contento di essere qui a Montesilvano, sono molto contento di poter portare un messaggio di unità di una regione che di turismo vive e che deve continuare a vivere. I viaggiatori saranno accolti nella stazione di Montesilvano dagli operatori del Consorzio Turistico. Quattro le date di partenza come annuncia il presidente Silvio Raciti. Saranno quattro date, una per ogni mese, 27 giugno, 25 luglio, 19 agosto e 5 settembre. Saranno tre domeniche e un giovedì. La fermata principale e conclusiva sarà Roccaraso e da lì partiremo per visitare la città di Roccaraso. Ci saranno anche delle attività di animazione e intrattenimento sia a bordo ma anche nelle varie tappe. abbiamo l'interesse di fare conoscere il nostro territorio ai turisti che verranno a visitarci quest'anno a Montesilvano.